Sono le 8 e 10 quindi seconda parte di trasmissione e come sempre abbiamo un ospite e un gradito ritorno Francesca Cucchiara, buongiorno Francesca Buongiorno, buongiorno Direttamente dal Consiglio Comunale, eccola qui, no? Ricordiamo Consigliere Comunale in quota Europa Verde Esatto, esatto, Europa Verde Perdo ogni tanto, questi partiti cambiano i nomi e me li perdo Europa Verde, AWS Eh, AWS infatti, da quello, infatti, no, comunque, Europa Verde Consigliere Comunale, tra i paesi, prima Forion dicevamo Nello studio che hai visto crescere, perché effettivamente tu sei stata qui anni fa, no? Sì, sì, infatti è bellissimo vederlo crescere, è bellissimo come l'avete, cioè, vedere anche nuove persone È un progetto bellissimo quello che ho portato avanti, quindi veramente complimenti Ma complimenti a te che invece fai uscire sempre delle situazioni, cioè, accendi, diciamo, il faro della politica Su delle situazioni che magari a volte passano un po' in sordina Quest'estate è uscito un po', diciamo, il bubone e tu l'hai schiacciato Un po' come quei video che ci sono su internet, la gente che continua ad andare a vedere, no? Quella roba lì, poche parole Ed è uscito tanta roba, nel senso che qual era il bubone? Era che si è scoperto, o meglio, non ci voleva molto a scoprirlo forse Però è stato palese Il fatto che c'è un business dietro agli studentati milanesi che non fa bene, soprattutto agli studenti, no? Cosa avete trovato e come è uscito questa situazione? Allora, è uscita così, è uscita perché eravamo andati a un sopralluogo al villaggio olimpico Per chi non sa chi è, diciamo, è quella struttura che sta venendo realizzata allo scallo di Porta Romana E che ospiterà gli atleti olimpici e che poi verrà trasformata in studentato Ecco, quando siamo andati lì, ci hanno detto che per 12 metri quadri di distanza Il prezzo era più di 900 euro 12 metri quadri? Esatto È legale vivere in 12 metri quadri? Tra l'altro, tra l'altro Non lo so, mi chiedo Però, quindi questa cosa ovviamente ci è sembrata molto strana Quindi abbiamo richiesto la convenzione del villaggio olimpico L'abbiamo analizzata e poi abbiamo detto Scusate, ma in questa cosa accade soltanto il villaggio olimpico? Oppure no? Cioè, è veramente un'eccezione oppure no? Quindi abbiamo preso i documenti Abbiamo fatto accesso agli atti a tutti gli studenti convenzionati Tutti i posti letto convenzionati con il comune Che vuol dire convenzionati? Convenzionato vuol dire che sostanzialmente sono delle strutture private Per le quali però il comune concede ai costruttori Determinate agevolazioni perché sono servizi privati Ma di interesse pubblico Il che vuol dire, questo è importante Che hanno delle agevolazioni fiscali Non pagano gli anni di costruzione Di mezzati, gli anni di urbanizzazione Il raddoppio delle devolumetrie Insomma, tutta una serie di sgravi importanti Perché Io faccio un palazzo e dico Però guardate, metà lo faccio destinazione a questa cosa qui Facciamo la convenzione Magari vizi bene, allora puoi fare anche un piano in più Cioè, detta male, no? Di fatto sì Perché è come se io, no? Un pubblico vengo da te e ti dico Siccome io non posso fare uno studentato pubblico Lo fai tu Io ti do delle agevolazioni, no? E tu in cambio mi dai dei posti letto Che sono a canone calmierato Calmierato, bene Dovrebbero essere, almeno dovrebbe essere Quello che però è nella realtà È che anzi sono perfino più alti Molto più alti Di quelli che troviamo sul mercato O degli alloggi, delle abitazioni private Sulle convenzioni non c'è scritto che devono essere calmierati? Non c'è scritto Ecco, veniamo al problema Come non c'è scritto? Non c'è scritto quanto devono essere De quanti devono essere calmierati Perché a una certa superficie convenzionata Non corrispondono tutti i posti letto calmierati Quando sentivo un po' di giorni fa Il sindaco che era stato intervistato Per esempio su fanpage E gli chiedevano Beh ma villaggio olimpico però Sono dei prezzi altissimi E lui diceva Ma ci sono anche i posti letto convenzionati In realtà è tutto convenzionato Quella struttura là Tutti i posti letti sono convenzionati Non tutti sono calmierati Quindi come dire C'è anche questo disequilibrio E fra l'altro Quando parliamo di posti letto calmierati Sì ma di quanto E noi quindi siamo andati un po' A spulciarci le varie norme In questo meccanismo abbastanza complicato Di scatole cinesi Di mille rimandi Per poi capire cosa Che non c'è effettivamente Un requisito normativo Che ci permetta di contenere i prezzi Anzi ci sono delle norme Calmerato vuol dire tutto Vuol dire niente Un po' come i prossimi congiunti Quella roba lì Si capiva bene cosa fosse Idem no? Sì di fatto diciamo Per capirci Adesso forse entro un po' nel dettaglio Sono cose un po' tecniche Un po' noiose Però per capirci Di fatto I riferimenti Il riferimento per i canoni È una normativa Una norma Una libera di giunta regionale Che però non è una norma Che va effettivamente a regolare I posti letto delle convenzioni Era un bando del 2005 Scaduto il 2006 Che ti diceva Tieni conto di questi canoni Quando vuoi andare a finanziare In questo bando In cui si finanzia Si dà un finanziamento Per gli studentati Quindi praticamente Noi abbiamo fatto riferimento Sempre a questa norma Che di fatto era Era desueto Poi di fatto Questi canoni Erano indicativi Ok Poi insomma C'è anche una Insomma La determina del comune Che anche lì Dice di agganciarci Soltanto il 10% Insomma Alla fine vediamo Che nei fatti Non c'è niente Che costringa gli operatori A tenere i prezzi più bassi E allora Dopo la prossima canzone Invece ci spieghi Cosa si potrebbe fare Ma soprattutto Queste convenzioni Che quindi sono Praticamente fallimentari Dal posto punto di vista Dal punto di vista Soprattutto degli studenti Che devono entrare In queste strutture E strutture Che ce ne saranno Sempre di più in città Quindi insomma È giusto Tenere gli occhi Ben aperti Su questa problematica Maroon 5 Sempre qui in diretta Su Good Morning Milano Crystal Radio 96.2 FM Dub Plus L'applicazione per iOS Android E poi comunque Vi ricordo sempre Che se vi perdete qualcosa C'è sempre il nostro sito Goodmorning.milano.it E trovate tutto lì Anche Fa poche ore Anzi Pochissimo Veramente Appena afficio la trasmissione In un attimo Non so come la regia Ginevra e Bea Fanno questo magia E tac Ritrovate tutto subito lì Anche dicevo appunto L'intervista di questa mattina Con Francesca Cucchiara Che è qui con me in studio Buongiorno ancora Francesca Allora abbiamo letto un po' Qual è stato Il quadro che avete trovato No? Nel suo punto Sul discorso del business Degli studentati Questo comporta Dei grossi problemi In una città Che comunque Non ha problemi Della casa O dell'affitto O del posto letto Solo Sugli studenti Ma praticamente Tu curso tutti No? No no È un problema enorme Io soltanto ieri Avevo uno sfratto Sfratto di una famiglia Con tre bambini E poi Insomma Questo è stato Rimandato a dicembre Ma comunque Il problema ancora rimane È veramente un Non so neanche più Se chiamarla emergenza Perché ormai è diventato Un problema strutturale In questa città È perché Non è Il problema Non è tanto Il padrone di casa Brutto e cattivo Che a un certo punto Si sveglia Perché Quella roba lì Magari si riesce Anche Può gestire In un certo modo Non so come dire Qui invece parliamo di Società Che comprano Da altre società Grossi Complessi Qui stiamo parlando Di dove? All'incirca Sono le palazzine Exempam Exempam Empam Venduto a fondi Di fondi Di fondi Di fondi È gestito È gestito da investire SGR E quindi stiamo parlando Appunto di grandi fondi E poi Ci rimette la povera gente Che hanno Anche forse giustamente Mi viene da dire Cioè il grande fondo Cosa fa? Nel suo DNA C'ha quello di guadagnare Quindi va bene Non voglio dire niente Ma ci guadagna Solo la pelle della gente Ma il problema è questo E quindi come si può fare In questo caso? Cosa avete proposto? Quali sono le proposte Che state facendo Come Europa Verde? Come facete Con Chiara Anche volendo? Beh allora Innanzitutto se Su questo fronte La risposta È una La risposta La prima risposta Deve essere quella Di investire Di più Nell'edilizia residenziale pubblica Cioè Non è normale Il fatto che Noi oggi abbiamo Più di 2000 appartamenti Che rimangono sfitti Perché Dicono Non ci sono i soldi Per ristrutturarli Eccetera eccetera Quindi da una parte Ce ne sono le persone Che pagano la casa Dall'altra Ci sono degli alloggi Che tuttora rimangono sfitti Sia del comune Sia di regione Lombardia Per cui Il tema Anzitutto È quello Cioè Servono Più investimenti Servono più fondi Per l'edilizia residenziale pubblica Quella è la prima cosa Poi È importante intervenire Sulle norme urbanistiche Per far sì Che Per ogni nuovo intervento Ci sia Una quota Di abitazioni Che sia Realmente sociale Cioè Negli accordi con il privato Attraverso Il piano di governo Del territorio Che la cui discussione Di fatto è stata Rimandata in consiglio Possiamo intervenire Su questo fronte Però Insomma L'aspetto primo Rimane sempre quello Cioè ERP Fare edilizia residenziale pubblica Sulla questione Delle convenzioni Perché appunto Il discorso dell'ERP Costa tanto Il comune Non la può fare Regione Che a me non dice Non la posso fare Neanch'io Chi la fa Facciamo le convenzioni Ci sono tanti buoni privati Che vogliono costruire Oh grazie Signor privato Che costruisce Facciamo la convenzione Esatto E poi ricadiamo sempre In quella contraddizione Ma per tutto Che sia Per la casa Che sia Per lo sport Perché pure Uguale Non abbiamo i soldi Per istrutturare la piscina Beh appoggiamosci al privato E poi facciamo Facciamo un accordo Per il welfare Tutto Ma io vorrei capire una cosa Tu sei nelle stanze Dei bottoni Che non ci siano soldi Sembrerebbe Che sia abbastanza vero Dopodiché però Insomma Affittiamo La galleria Vittorio La galleria Prada O chi per esso Ha milioni e milioni Di euro all'anno 10 milioni Domenica Il sindaco Sala Ha detto 10 milioni di turisti All'anno Che vengono a Milano E non credo Che stiano A mangiarsi il tramezzino Come faccio io Spendono in questa città Com'è che poi I soldi Non ci sono Allora Il fatto su Isla Alla fine torno sempre Su quel punto là Perché Insomma Milano comunque È vero che ha Una situazione Peculiare Perché noi abbiamo Praticamente Quasi Un terzo Della nostra Spesa corrente Che poi è quella Che garantisce La continuità Dei servizi pubblici Che è impegnato Sul trasporto pubblico Non succede In nessun'altra città Noi abbiamo Cinque linee di metro Per cui Insomma si capisce Che c'è una spesa Molto più grande Che sta Ma in buona parte Sulle spalle Di Milano stessa Che quindi Milano Fa fatica A mantenere E questo Ha cascata Delle ripercussioni Su tutto il resto Per cui Io penso Nel momento in cui Il problema Lo abbiamo su tutto Lo abbiamo sullo sport Lo abbiamo sulla casa Lo abbiamo Sui salari E interroghiamoci Su come aumentare Le risorse I turisti Sono una risorsa Sì Per chi Per pochi Non sono veramente Una risorsa Per la comunità In questo momento Per cui Secondo me Sì sarebbe opportuno Che ci si interrogasse Su come Chiedere un po' Di più A chi vive Questa città Soltanto così Per turismo Di passaggio Perché In realtà Stiamo vivendo In questo momento Un grande Un grande malessere sociale Lo vediamo appunto Tu giri tanto La città E appunto Te ne accorgi Praticamente Giornalmente Di questo malessere Che sta Sempre più montando E in tante zone La città Però Adesso mi viene da dire Non in quelle In cui uno se l'aspetterebbe Anche a volte Già lì è brutto Ma sì Ma come dicevo ieri In consiglio Cioè È assurdo Cioè pensiamo Noi adesso abbiamo La settimana della moda Quindi tutto questo La città delle week Questa Sì è la città delle week No Dello sparse Del lusso Della ricchezza E poi dall'altra parte Abbiamo la gente Che finisce in strada Che viene in strada E non sappiamo Dove metterla Perché non ci sono Abbastanza posti Nei servizi abitativi Transitori Per cui abbiamo Proprio un'emergenza E facciamo Veramente fatica A intervenire Per cui Sì io penso Che comunque Bisognerebbe Anzitutto interrogarci Su come reperire Maggiori risorse Ebbene Questa può essere Una delle ricette Appunto Quella riproposta Ad esempio Da facciare cucchiare Ma chissà quale teatro Ce ne sono 3317853555 Diteci anche voi Come la state vivendo Questa città Io ho solo Un brutto presentimento Che si è un po' tornata Da Milano da bere Che almeno però Ci faceva divertire Ci faceva bere Qui in realtà Non beve nessuno E si divertono Veramente Veramente In pochi Da Straits E poi torniamo Avril Lavigne Con Girlfriend Alle 8 e 33 minuti Martedì 24 settembre Un po' Avril Lavigne Francesca Cucchiara Io Sono girato Ho visto Avril Lavigne Qui di fianco a me Non può essere Un po' più rossa Allora Francesca Stiamo parlando appunto Di convenzioni Studentati Del problema Della casa Che a Milano Affligge veramente Troppe E sempre più persone Ma sulle convenzioni Tu infatti Ci stai facendo Proprio una battaglia Sul dire Interessante Come soluzione Ma bisogna trovare Il modo Di farle funzionare Perché Mi dicevi poco fa Ad esempio Ci sono tante cose Che poi rimangono Ai lati Ai bordi Fuori da queste convenzioni E poi il controllo Come viene questo controllo Come può avvenire Questo controllo Anzitutto Il problema È che Gli accordi Dei convenzionamenti Non passano Dall'aula consigliare Quindi diciamo Che Sono un po' Lontani Dall'occhio Della politica E poi Quindi nel caso Del villaggio olimpico Lì è stato diverso Perché monitoravamo Diciamo La struttura In vista delle olimpiadi Quindi diciamo Che è venuto A galla più facilmente Però Di fatto Sì Non Non passano Molta l'attenzione Su me Della parte politica E poi In questo caso Nello specifico Su me C'era una struttura Relativa alle norme E poi comunque C'è stato poco controllo Che Che comunque Fossero rispettati Quanto meno Diciamo I parametri I criteri Perché siamo veramente In una Una profonda contraddizione Secondo me Questa cosa Del passaggio Verso la parte politica Vedo che è un problema Però che nasce Da lontano E che spesso Si propone Su tanti temi Però Cioè Vuoi un consiglio Ogni tanto Passante Passante ferroviarie Proprio Cioè vi passano Dietro Oh Ha nominato lo stadio Ha nominato lo stadio Attenzione Attenzione Me l'hai chiamata Proprio Però Sì Ma pure sullo stadio Nel senso Ho sentito dire Che No I passaggi in consiglio Sono stati fatti Perché adesso Il sindaco ha parlato Con le squadre Quindi non c'è Non ci sarebbe più bisogno Di passare dall'aula Perché le cose Sono state già decise Ma ragazzi Ma quando sono state già decise Cioè adesso ci ritroviamo Con un progetto Totalmente diverso Che è quello di uno stadio Più piccolo Di un San Siro ridotto Di un piccolo San Siro Accanto a un altro stadio Quindi due stadio In la stessa area Questa cosa Quando è stata discussa Se noi andiamo a vedere Gli atti Del dibattito pubblico Non c'era questa roba qua C'era un altro stadio Al posto di San Siro Che è un'idea che io non condivido Però è comunque un altro progetto Per cui insomma Sì no Ed è un tema Che si ripropone È un tema che si ripropone Volevo ricordarti però In particolare Fate parte della maggioranza Tu Francesca Non so se te lo ricordi Intanto mi sembra Che ve lo dimenticate No 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 Allora no Noi facciamo parte della maggioranza E per me Far parte della maggioranza Significa comunque Assumersi la responsabilità Per cui se si critica Una cosa Si propone una soluzione Ok Che è quello che abbiamo fatto Nelle convenzioni Abbiamo detto Signori Secondo me Secondo noi abbiamo sbagliato Fino a qua Rivediamo questa cosa E quindi infatti La nostra proposta È stata quella di Abbiamo detto Di andare in consiglio Con una delibera Per andare a sistemare Alcuni aspetti Quindi le quote Per i DSU Il fatto che ci siano Per il diritto allo studio Scusate Non ho specificato E delle quote Definite per il diritto Allo studio Che ci siano Dei parametri Definiti per i canoni Perché lo strumento Non è tutto da rigettare Però servono Delle regole più precise Delle regole più chiare Per cui insomma Quella è la cosa Che fa la maggioranza Questa cosa non va bene Perfetto Ti diciamo anche Come crediamo Che debba essere cambiato Se pensate Che stiamo parlando Di qualcosa Che riguarda poche persone Che vale tanto Ma Milano è una città Che fa tanto alto La città dei servizi La città delle imprese La città dei grandi Multinazionali Beh no Perché Milano Potrebbe essere Una delle città Universitarie più importanti D'Italia I numeri lo dicono Ma ce lo racconti meglio Dopo la prossima canzone Perché vorrei proprio Che tu Anche per vicinanza Anche di età Con chi L'università sta facendo Magari conosci meglio di me Il mondo Punto universitario E quindi Un po' di musica E poi torniamo qui Con Francesca Lucchiara A parlare di Milano Università Il mondo università E questa Milano Che potrebbe tranquillamente Essere a tutti gli effetti Una vera e propria Città universitaria Come tante altre In Italia Ma che invece Fatica a essere Una città Per universitari E non dico altro Lascio a voi Tutto quello che volete Perché insomma C'è poco da dire Francesca Allora stavamo parlando Del mondo Dell'università Mondo che a Milano È importante Ma forse Troppo dimenticato Secondo me Sono tanti gli studenti Che arrivano a Milano Parliamo 200.000 passa Quanto dicevi? 129.000 fuorisede Solo fuorisede Pensate Solo fuorisede Sì esatto Il tema però È quali studenti Stanno arrivando qui Nel senso che Se vediamo appunto Le residenze universitarie Sono di fatto Delle residenze Che pochi studenti Di viceto medio Possono permettersi Per cui di fatto Buona parte di studenti Sono studenti Appunto stranieri Particolarmente Ambienti Lo dico io Esatto Quindi nel senso Chi invece Viene qua E viene qua Per studiare Dalla periferia Logicamente Fa molto più Senza pensare al tema Che il fuorisede Non necessariamente È un fuorisede Nicola Che arriva da Bari E fa la Università Milano Ma non è necessariamente Quello Perché può essere anche Quello che arriva Da Brescia A volte magari Esatto Tante volte Sono appunto I ragazzi Le ragazze Che arrivano Dai comuni limitrofi E già Il trasporto pubblico Ferroviario Insomma Nella Della regione Mi permetto Non è particolarmente Ottimale Quindi si fa anche Fatica Oggi A essere Pendolare In più Non ci sono Non ci sono sufficienti Residenze universitarie Con la conseguenza Che poi I ragazzi Si devono affacciare Sul mercato Con i prezzi Che ci stanno E quello è il problema Per cui Questa struttura Che abbiamo visto Delle convenzioni Poi di fatto A ripercussioni A ripercussioni Sui studenti E le studentesse Che invece Dovrebbero avere Diritto A quelle Stanze A quei posti letto A chi dice Che le convenzioni Sono male del mondo Però in realtà Ci sono anche Delle convenzioni Che poi funzionano Giusto Ci sono poi Qualcosa Magari Non in questo campo Ma sì Allora Ci sono delle cose Che logicamente Possono funzionare Nel senso La convenzione Di per sé È un termine Che tiene dentro Di tutto Cioè convenzione Appunto Dallo sport A welfare A tutto È come sinergia Scusa Sinergia Facciamo sinergia Esatto Che è la parola Che va bene per tu Se lo dici tu Facciamola Però ecco Qui in questa cosa qua Noi abbiamo visto Degli esempi Delle strutture Che tengono Effettivamente Dei prezzi Più contenuti Che sono convenzionate Che è appunto Il Pompeo Leoni È una struttura Che se andiamo a vedere Insomma I grafici I dati Che abbiamo estrapolato Poi effettivamente Tiene i prezzi Più bassi Di quelli Di mercato attuale Per cui Non è Ambrogino d'oro Un attimo Che poi si arriva subito Per cui È una struttura Insomma Quella effettivamente È un caso Che richiede più studio Perché effettivamente Può funzionare Però Il tema È che ci sono delle cose Che proprio Non funzionano Quindi Appunto Quello che chiediamo È che si intervenga Anzitutto Per definire Dei paletti chiari In modo che poi Insomma Non si esca Come è stato fatto Va bene Francesca Ti porto fuori tema In realtà Perché insomma Quando qui Consiglieri comunali Quando qui Quelli che fanno La politica E che a me piace Quelli che fanno La politica Perché insomma È una cosa nobile E bella Fare politica E non necessariamente Invece solo Pensare ai ladri A si ruba No Quella è un'altra roba Quelli che fanno male Quelli che fanno bene È fondamentale E dobbiamo agire E dobbiamo agire Non dipende soltanto da Milano È vero Non dipende soltanto da Milano Cosa può fare un comune Cosa può fare una città Come Milano Però Lì Secondo me Dobbiamo rivedere Completamente Le politiche sulla mobilità Noi adesso abbiamo Dei limiti C'è area C Area B Eccetera Hanno funzionato Un po' Sì Un po' Sì Effettivamente sì Funzionano Adesso funziona la sufficienza No No Per cui Quello strumento Nel momento in cui Non ti garantisce Più riduzione delle auto Più riduzione dell'inquinamento Va ripensato Va ripensato Ritorno a dire La mobilità Non riguarda soltanto Milano Perché la gran parte delle auto Vengono fuori di Milano E per cui è necessario Il contributo della regione Da sola Milano Non Su questo Non credo ce la faccio Non apro il capitolo Città metropolitana Perché lì vabbè sì Un capitolo vuoto Però in realtà poveretti Nel senso che veramente A me spiace che queste istituzioni Sia completamente sbottate Del suo significato Il vero tema Il vero tema infatti È rivedere il funzionamento Della città metropolitana Noi dobbiamo fare il salto Per cambiare realmente le cose Noi dobbiamo fare il salto E dare più importanza E marginizzazione Alla città metropolitana Che così diventa soltanto Un coordinamento Fra i vari comuni E così insomma Non funziona Bene Francesca Allora io ti ringrazio tantissimo Per il tuo intervento Grazie Seguite Seguite i lavori Di Francesca Se vuoi dare anche I tuoi contatti Social Non so se qualcuno per seguire Così cosa sta facendo Perché questa cosa Sui studenti è molto interessante Ormai infatti Butto sempre tutto Su Instagram È un metodo più semplice Forse quello più efficace Però Francesco Gucchiara Cercate Francesco Gucchiara Su Facebook La trovate Su Instagram La trovate Perfetto Così potete seguire appunto I lavori E anche capire appunto Cosa vuol dire Nel mio caso Così come dicevo prima Fare politica Fare politica In un'amministrazione locale Fare politica Per il territorio Grazie mille Francesca Grazie a voi Buon lavoro in consiglio Saluteci i tuoi colleghi Di consiglio Saluteci la maggioranza Di cui fai parte Voglio ricordarti Perché ogni tanto Sembra che ve lo dimenticate Quindi vorrei ricordarvelo sempre E andiamo con un po' di musica E poi torniamo qui Per i saluti finali Alle 8 e 47 minuti 331-78-53-555 Il nostro numero di Whatsapp Crystal Radio FM Da Plus IOS Goodmorning Punto Milano Punto IT Il nostro sito Il nostro sito